ci avete conosciuto qui su youtube ma per essere liberi abbiamo costruito una nostra piattaforma senza censura e controllo due anni di lavoro cinque tecnici coinvolti ogni giorno uno staff di 14 persone questa è in zion un posto creato per godere di contenuti video evolutivi selezionati per te contenuti che youtube non pubblicherebbe mai su in zion tutto più facile ai disponibili i video recenti pubblicati su youtube immediato accesso ai nostri corsi creati da autori d'eccezione puoi consultare leggere gli articoli del blog guardare le nostre vignette quotidiane e avere sempre disponibili gli eventi e di corsi iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto tu pensi di guardare quello che vuoi su youtube mentre guardi quello che vuole youtube in zion dopo che l'hai guardata sei migliore buongiorno ragazzi argomento importantissima stamattina con il nostro psicoterapeuta alessandro d'orlando come trovare l'anima gemella mi raccomando state con noi grazie a tutti buongiorno a tutti buongiorno ila ciao buongiorno a tutti tavale eccoci qua ila puntata incredibile mi piace tantissimo il tema perché non è solo per il single ma anche magari per chi è in coppia e vuole migliorare il proprio rapporto con il compagno e compagna ila ricordiamo i corsi di luca cioè e non solo che anche il nostro alessandro fa i corsi sì ok allora partiamo da questo weekend che luca sarà a monza con il corso di gong di primo livello e campani tibetane di secondo livello poi il 5 di novembre dalle 16 alle 17 luca farà un evento gratuito a sanremo sulle tecniche di gestione della realtà poi 5 novembre dalle 17 alle 20 gabriele san nino sarà a udine 6 novembre alberto sturiale a monza con lezione iniziatica di human design conosciamo la tua unicità 6 novembre luca nani campani tibetane a sanremo 12 e 13 novembre giovanna garbuio con opono pono base a sanremo il 13 novembre monica clementi con numerologia a monza il 13 novembre luca nani pillola rossa a udine il 19 novembre gabriele san nino a monza come affrontare la tempesta perfetta materialmente spiritualmente il 20 novembre luca nani con campani tibetane a padova il 26 novembre sonia e simona cabaia saranno a monza con shine tornare a risplendere il 27 novembre luca nani sarà a bologna con campani tibetane grazie mille ila per info e prenotazioni luca puntunali chiocciola in zion.com e verranno date tutte le informazioni o potete già prenotarvi ila io volevo far vedere anche la piattaforma perché è una meraviglia eccola qua eccoci questa è la piattaforma qua ci sono tutti i corsi che sono è diviso per categorie ci sono i libri ecco io volevo far vedere ecco questa di dana la mappa della coscienza ed è un corso gratis un video gratis durata del corso 150 minuti quindi anche bello corposo ma ce ne sono parecchi parecchi detox di sonia uscire dalla matrix di luca ecco qua bellissimi i messaggi segreti dei sogni domani stamattina ci sarà la live con daniela insomma lo dico sempre come un negozio di giocattoli per i bambini si trova tutto tutto interessantissimo assolutamente è vero è vero proprio così ila io inizio la live con ho tolto il banner con alessandro se ti puoi prendere cura dei commenti e ci vediamo tra poco ok ed eccoci qua alessandro benvenuto ciao buongiorno valeria buongiorno a tutti gli ascoltatori ascoltatrici eccoci qua alessandro argomento tostissimo molto molto interessante che interesserà molte persone quasi tutte perché come dicevo prima non è solo trovare e anche come saper gestire poi come saper stare in un rapporto di coppia esatto sì assolutamente importante per la felicità individuale un corretto rapporto di coppia è fondamentale il avere rapporto di coppia sbagliato può portare alla depressione all'autodistruzione all'ansia tutta una serie di problemi fisici emotivi e anche fisici quindi rimando sempre a quelli che sono le scoperte gli studi del dottor hammer su questo argomento come le malattie psicosomatiche l'infelicità emotiva porta alla distruzione fisica e psicologica l'essere umano invece una buona relazione di coppia può aiutarci sia a un livello moderato ad avere stabilità nella nostra vita ma a livelli più elevati a essere anche felici e sappiamo anche quanto la felicità è importante delegata al sistema immunitario alla salute psicofisica in generale è vero alessandro io partirei dalla definizione anima gemella perché questa definizione la si sente sempre però non mi ero mai chiesta prima di adesso anche qua dobbiamo intenderci perché ci possono essere dei fraintendimenti sull'argomento non sto parlando dell'anima gemella mitica di quella che hai perso nella vita precedente chissà se ritroverai che se devi assolutamente ritrovare in questa vita eccetera perché non non credo questa situazione magari si verifica magari no ma non credo sinceramente che sia necessario scomodare un concetto così altisonante ma anima gemella mi riferisco semplicemente una persona che condivide ed è allineata con noi dal punto di vista spirituale dal punto di vista dell'anima dal punto di vista mentale dal punto di vista emotivo e anche soprattutto dal punto di vista fisico perché poi è chiaro che ci deve essere l'intesa sul piano fisico ci si deve piacere ci si deve trovare attraenti perché sennò parliamo di altri tipi di relazione non di coppia e però appunto questa intesa fisica viene dopo un accordo sui piani superiori soprattutto quindi poi eventualmente possiamo approfondire che cosa intendo per dimensione spirituale animica mentale emozionale però l'anima gemella è questa 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 persona quest'uomo questa donna qui che può incastrarsi con noi sulla maggior parte dei piani non dico tutti ma sulla maggior parte perché se l'incastra avviene solamente su un piano non è una relazione di coppia è una un'altra roba e poi eventualmente posso entrare nel dettaglio ad esempio può essere amicizia laddove non ci sia attrazione fisica esattamente esattamente sì le classiche relazioni di fratellanza siamo sorella fratello come spesso si sente dire questa è una situazione tipica è finita l'attrazione vabbè insomma ci sta niente per sempre questo è chiaro ok ok prima di trovare l'anima gemella molte persone stilano una lista con delle caratteristiche di quest'ultima ma lì non si va troppo nel mentale non dovrebbe scattare invece qualcosa a livello del cuore e poi non ci si crea delle aspettative che molto spesso le aspettative per me non coincidono con con quello che veramente vogliamo tra l'altro o ci serve e ma interessante fare la lista della spesa può aiutare non alla fine il mondo è un mercato e ognuno trova quello che cerca poi c'è il famoso detto vi cerca trova credo che funzioni c'era bundler che nel suo libro credo che fosse persuasion engineering se ben ricordo e comunque nei suoi scritti dice se tu vuoi un partner sportivo vai nel reparto sport di un grande magazzino di un negozio e vedi un po che cosa bazzica chi bazzica da quelle parti se tu vuoi un partner più classico più di un certo tipo va nel reparto giacca e cravatta a taier per esempio e quindi credo molto in questo discorso ossia in questo mondo c'è tutto quello che noi vogliamo trovare dobbiamo solo curare due aspetti il primo è essere noi quella persona che è adeguata per il partner che cerchiamo perché noi troppo spesso pensiamo che il partner che deve essere adeguato a noi però è vero anche che noi dobbiamo essere adeguati al partner perché se io cerco un partner che tra virgolette di alto livello il mio livello non può stare qua per stare qui o posso stare qui ma non qua sotto quindi persone uomini donne che dicono io voglio un uomo che una donna che non ha problemi benissimo ma tu come sei con i tuoi io voglio una persona che sa stare sulle sue gambe benissimo ma tu lo sei io voglio una persona consapevole benissimo ma tu lo sei io perché alle volte vedo persone che soffrono di leggere tendenze narcisistiche dire io sono consapevole cerco una persona consapevole come me ecco sia a posto io sono una persona evoluta cerco una persona evoluta come me ma attenzione che non ce la stiamo raccontando perché se abbiamo delle tendenze narcisistiche c'è il rischio che ce la raccontiamo quindi il problema è sempre la mente noi ci affidiamo uno strumento incredibile che però ci può portare anche nella direzione sbagliata quindi questa mente deve essere connessa su un piano emozionale sul quale la mente il cuore devono comunicare perché se lavora solamente la mente dentro di me non c'è amore non c'è compassione autentica vivo la vita con paura vivo per controllare le situazioni vivo per mantenere la mia zona di comfort non c'è amore dentro di me posso trovare un partner ma posso trovare un partner ma non sarà un partner che mi permetterà l'evoluzione quindi attenzione che quando parlo di anima gemella intendo anche una persona che riesce a fare un percorso che riesce a fare con me un percorso di crescita che mi stimola a fare un percorso di crescita questa è anche l'anima gemella perché c'è il rischio che troviamo un'anima gemella dal punto di vista nevrotico e quindi entriamo in relazione con qualcuno che invece di aiutarci a crescere ci affossa nelle nostre manie spesso si sente poi qualcuno che qualcuno che ha dei sogni però il compagno cerca di così dire di affossare questi sogni no dell'altra persona sì la possibilità che io soffro di manie di controllo trovo un partner che si lascia castrare controllare bello sono felice ho trovato la persona giusta per le mie nevrosi non ho trovato la persona giusta per me ha trovato la persona giusta per le mie nevrosi oppure come quel potrebbe essere che lui e lei hanno delle degli orientamenti un po troppo focalizzati sul piano fisico cercano la trasgressione sul piano fisico bene si divertono per un po poi hanno l'incauta di idea di fare famiglia e scoprono che nessuno di due le competenze emotive per poter prendersi cura l'uno dell'altra e soprattutto di un figlio disastro totale quindi insomma bisogna che le persone imparino quanto prima più e più lo fanno da giovani meglio è a capire quali sono le regole per trovare la persona giusta quindi dicevo la lista della spesa va bene va bene però va affiancata ad altri aspetti quindi devo essere sicuro che intanto quella lista la faccio col cuore e non con la testa quindi questa è la parte più importante se io scrivo voglio un partner che ha il conto bancario di almeno 2 milioni di euro eccetera benissimo fallo pure e può essere anche che per la legge di attrazione ti capiti di trovarlo ti risolve certamente un sacco di problemi ma chiaramente possiamo dire che se questo è uno degli elenchi delle parti centrali dell'elenco possiamo dire che non ha certo il cuore a parlare sono altre situazioni quindi sicuramente l'amore che si deve manifestare in questa coppia e anche qua deve essere l'amore sano non l'amore malato che porta alla rigenerazione delle dei traumi dell'infanzia perché noi di chi ci innamoriamo follemente delle persone più più inadeguate che ci consentono di rivivere i nostri traumi passati allora se proprio vuoi innamorarti usa tutte queste energie per fare un lavoro di una psicoterapia un lavoro sul tuo passato fai dei corsi respira vedi un po quali sono i tuoi traumi sistemati e dopo innamorati se ti innamori va bene il cuore vuole andare con la direzione però come dicevano uno dei miei insegnanti quando ci facciamo il segno della croce diciamo nel nome del padre nel nome del figlio il padre e il figlio quindi il figlio il cuore il padre è la mente e la mente può decidere se il cuore sta andando verso l'autodistruzione oppure no se mi innamoro se io sono classicamente un imprenditore super affermato e mi innamoro della ballerina che niente da discutere con le ballerine ma possiamo dire che se questa ballerina non ha risolto le sue questioni interne e non ha risolto le sue situazioni cosa succede abbiamo due polarità che si incontrano e si distruggono perché abbiamo da una parte l'uomo che vive nella iper razionalità che sarà attirato follemente dalla donna che vive invece nella sensualità e nella immediatezza e questa è un'attrazione fatale che provoca solamente distruzione lo stesso può succedere con una donna che ne so la donna manager che si innamora dell'uomo che vive la giornata di espedienti e che mira relazioni occasionali sono classiche ed estreme situazioni dove le polarità si attraggono per distruggersi quindi anche quelle attenzione a non cadere in un attrazione fatale per non cadere in un attrazione fatale noi dobbiamo essere in grado di sciogliere dentro di noi questi estremi quindi dobbiamo sciogliere dentro di noi gli estremi che abbiamo dentro l'estremo del vivere sui progetti perché se noi viviamo su quello ci innamoreremo di qualcuno che ce li distruggerà e farà molto male sarà liberatorio ma farà farà molto male è molto meglio sciogliere noi dentro questi estremi senza avere necessità di qualcuno che mi disintegri invece vivo la vita tanto per vivere che di chi mi innamorerò mi innamorerò di qualcuno che invece dall'altra parte tutto testa e niente cuore ok e anche questo mi farà molto male mi permetterà di evolvere ma sarà molto doloroso vale la pena credo che ci siano modi molto più evoluti per evolvere questo è uno dei modi più primitivi se dentro di me non ho risolto rapporto con mia madre con mio padre con le figure significative della mia infanzia i zii le zie che si sono presi cura di me qualche insegnante all'asilo alla scuola elementare che forse mi ha fatto delle cose che non doveva fare se io non risolvo tutte questi aspetti li ritroverò nelle persone che di cui mi innamorerò più avanti nella vita possiamo innamorarci di 2 3 4 5 10 persone ognuna con i lati che mi rimandano che mi rimandano a queste figure del passato quindi dobbiamo fare molta attenzione a lavorare continuamente dentro di noi se no troveremo quello che è il risolto nella persona fuori grazie alessandro chiarissimo e quando si è dipendenti invece dall'altra persona sia anche economicamente ma anche emotivamente che proprio si dipende si sta bene solo se l'altra persona sta bene si si è felici solo se si è con quest'altra persona poi diventa una forma anche di possesso di gelosia morbosa verso l'altro in quel caso allora la felicità non può limitarsi a una persona la persona diventa colui o colei che condivide con me quell'universo felice che io ho saputo costruire se io ho un universo di miseria e porto una persona dentro con l'universo di miseria io distruggerò la vita questa persona e distruggerò anche la mia vita perché tanto cado nell'illusione che lui o lei potrà aiutarmi a trasformare questo universo di macerie in una città fantastica e vivere l'illusione porta sempre da mare sorprese alla classica buccia di banana su cui si scivola quindi invece di concentrarmi su di me mi concentro sull'esterno sbagliatissimo e l'altro discorso che poi nel momento in cui quella persona si accorge dell'inganno pensava di entrare in un paradiso ed entrate in una catapecchia lì inizia la guerra iniziano i problemi quindi attenzione che il le persone vanno portate nel nostro universo solamente se questo universo è un bel universo dove vivere dove noi desideriamo vivere e dove a quel punto possiamo portare anche la persona che abbiamo vicino e naturalmente l'altro discorso anche i figli vanno fatti in questa maniera cioè è chiaro che uno fa figli solamente se pensi ad avere qualcosa da condividere perché se pensi non avere niente da condividere lasciarli dove stanno perché altrimenti anche loro poi quando arrivano e capiscono cosa è successo non è che ti guarderanno in maniera molto serena ma questo magari è un altro argomento di cui parleremo il discorso dell'anima gemella è un po e questo trovare una persona che abbia sufficienti e buoni incastri con noi sul piano sano per poter fare un percorso evolutivo di crescita tutto il resto è noia come diceva califano per le cose è un girare intorno senza motivo alessandro ci sono diverse fasi la prima fase è quella dell'attrazione giusto poi innamoramento e amore giusto ma si seguono sempre queste fasi oppure magari uno lo vediamo ci sta sulle scatole non ci piace e poi magari pian piano ci si può innamorare oppure no ma adesso se faccio riferimento qualcosa quello mi viene da dire questo non ho sufficienti casistiche per parlare a ragion veduta però posso dire che se la relazione inizia con una versione e dopo prosegue e sfocia in un innamoramento può essere una delle modalità lo sentiamo nella vita di tutti i giorni l'ho visto anche questo stiamo attenti ecco questa situazione piuttosto pericolosa dove c'è lui o lei che esercita volontariamente in maniera strategica un atteggiamento aggressivo per mettere in difficoltà l'altro farlo vacillare fino a destabilizzarlo per farlo poi prendere dalle labbra quindi sono strategie di seduzione quindi attenzione a non cadere dentro le strategie di seduzione anche questo è importante l'inizio della relazione deve basarsi su cose più fondate sulla parte sana di noi non sulla nostra parte nevrotica ci sono strategie per ammaliare l'altro per esempio posso fingere di essere simile all'altro una strategia di seduzione posso decidere di mettere in dubbio le qualità dell'altro posso decidere di indebolire l'altro fin quando l'altro non si sente inferiore a me queste sono altre strategie di seduzione posso mostrarmi come superiore all'altro sono altre strategie di seduzione attenzione a non cadere dentro questi fascini perché da lì non so posso mostrarmi più forte psicologicamente economicamente dal punto di vista del culturale ma queste sono tutte strategie di seduzione che portano alla distruzione è chiaro che io sarò sensibile alle strategie di seduzione se ho delle debolezze dentro se penso c'è una bassa autostima questo mi porta a cedere alle seduzioni alle strategie di manipolazione mi fa credere alle cose che non esistono e mi porta nelle relazioni sbagliate che poi durano quello che durano quindi attenzione ad avere una buona autostima per il resto si dopo si può fare tutto però ecco attenzione a come inizia la relazione perché come inizia la relazione quello sarà l'impronta che darà vita a tutta la relazione successiva il modo in cui stiamo all'inizio e il modo anche in cui spesso ci si conosce all'inizio in forma tutta la relazione successiva attenzione relazioni che nascono nel tradimento non vanno avanti molto bene molto spesso perché nascono nel segreto nascono nelle bugie nascono nelle nelle dissimulazioni questa è l'impronta iniziale della relazione che quella relazione rischia di portarsi dietro anche quando non ci sarà più bisogno di vivere in quell'ambiente lì se la relazione nasce in un certo momento della propria vita perché si sta male e troveremo sicuramente qualcuno che starà male come noi attenzione perché quella sarà la nota di base che rischia di informare tutta la relazione oppure la relazione nasce in un faccio un esempio banale in una fase di divertimento della nostra vita attenzione che quel divertimento e quella leggerezza rischia di informare tutta la relazione per cui ci si porta dietro quegli errori per cui anche qua la buona regola dice mettiti in ordine vivi con ordine metti a posto le cose non lasciare casino in sospeso metti a posto le cose dentro di testa è sereno e allora poi la persona giusta arriva se no arriva sempre quello che ti insegna a fare le cose che non volevo imparare a fare da solo questo è però nella sofferenza allora ci sono questi due aspetti se noi cerchiamo qualcuno che ci aiuti a fare meglio leggiamo libri facciamo corsi facciamo la terapia quello che è è la volta che noi facciamo un passaggio evolutivo se noi diciamo non ho bisogno di tutto questo io so già tutto quello che mi serve è lì che arrivano le mazzate e arrivano sempre per insegnarci le cose quindi noi impareremo comunque le cose con le buone con le cattive dobbiamo solo decidere un pochino per quel che si riesce se decidere se evolvere con l'aiuto di qualcuno o semplicemente che ha fatto meglio di noi oppure se invece imparare per prove d'errori ma tu imparereste mai a cucinare per prove d'errori io no io preferirei prendere il mio libro di ricette e fare dei corsi di cucina io non mi metterei mai a preparare le uova in maniera fantasiosa posso anche farlo ma nella in una maniera insomma controllata ecco ok grazie grazie quindi è importantissimo essenziale lavoro su se stessi per non inceppare in relazioni tossiche poi volevo chiederti e se due persone sono dal punto certi punti di vista opposte non lo so ad esempio uno un pantofolaio non vuole uscire non vuole parlare con le persone molto chiuso l'altra persona estroversa le piace andare a ballare divertirsi come si possono integrare questi due aspetti allora anche qua il anche qua la stessa discorso che facevo prima attenzione che l'integrazione tra polarità così estreme è meglio evitarla quindi se siamo se c'è la possibilità di scegliere una relazione io eviterei di avviare una relazione questo tipo ma se ci ritroviamo dentro è chiaro che a un certo punto uno inizia proprio percorso perché qua il titolo della trasmissione è come trovare l'anima gemella poi eventualmente potremmo fare un'altra trasmissione che si intitola come trasformare l'anima in un'anima gemella potrebbe essere interessante questa cosa cioè come si lavora dentro la coppia per poter al limite vedere di far quadrare le cose però certamente intanto sconsiglio di cercare persone così polarizzate perché uno significa che noi siamo polarizzati dall'altra parte e cerchiamo nell'altro un equilibrio ma quando cerchiamo nell'altro l'equilibrio succedono sempre tragedie quindi lo eviterei due significa che abbiamo davanti una persona che radicalmente centrata su una certa struttura e certo non cambierà per noi cioè questa storia che le persone cambiano per amore io la metterei da parte sinceramente perché le persone cambiano perché vogliono cambiare possono cambiare per mille motivi per amore per vergogna per illuminazione eccetera ma il fatto che c'è l'amore non significa che una persona voglia cambiare ci sono persone che non sono all'altezza dell'amore che nutrono ci sono persone che provano un amore viscerale ma sono come dei bambini ma dove si inizia come faccio a gestire la cosa conosco dei padri di famiglia che amano i figli ma non sanno come parlare ai figli e non sanno come comportarsi non sanno come muoversi non uomini chiamano donne e donne che amano uomini ma non sanno come fare come incontrarsi cosa dire che parola usare come gestire conflitti cosa come esprimersi cosa condividere a livello personale cosa chiedere quindi dove c'è disordine mentale l'amore si perde e basta quindi cerchiamo persone che vogliono cambiare non cerchiamo solo persone che ci vogliono bene ma cerchiamo persone che hanno coraggio di dire io sono nel percorso di crescita sono nel percorso di cambiamento e sono pronta a fare qualsiasi cosa per essere felice questo è grazie alessandro io penso che ci possono essere poi dei piccoli piccoli compromessi per quanto riguarda magari la coppia ma sulle grandi questioni sui grandi aspetti bisogna essere in sintonia specialmente per quanto riguarda questo periodo perché se uno la pensa in un modo e l'altro in un altro modo se non è solo faccio non faccio cedo ricatto no ma è proprio una questione di che riguarda molto molto di più secondo me ma è certo riguarda al mondo dei valori riguarda al mondo della paura della fiducia se tu trovi una persona che c'era ricatto è perché quella persona vive in base alla filosofia della paura non della coerenza cedere un ricatto significa tradire se stessi quindi se io sono una persona integra io non tradisco me stesso piuttosto muoio ma non tradisco me stesso più è forte il livello di integrità più è forte la presa di posizione di una persona non sto parlando di chi decide una certa strada dicendo ma io ci credo vabbè ci credi e lì si apre tutto un altro mondo perché vuol dire che abbiamo una visione del mondo completamente diversa ok perché vuol dire che non hai fatto certi studi non ti interessano certi concetti vivi hai una struttura di personalità di un certo tipo una struttura di personalità basata sul consenso sull'obbedienza sulla sull'essere come vogliono gli altri non c'è modalità di avere una relazione con chi invece si basa sul concetto del diventare se stessi non c'è possibilità che i due mondi si incontri chi invece lo fa perché tradisce se stesso lo fa come dire non ci credo non voglio ma non so come affrontare diversamente la situazione quindi tradisco me stesso vuol dire che c'è un problema di integrità c'è un problema di creatività profondo allora davanti ai problemi grandi della vita come faremo ok se tradiamo noi stessi una volta poi cosa succederà ricordiamoci il concetto del piede nella porta quando noi nella vita ci sono tante cose da dire sulla psicologia della persuasione eccetera c'è una tattica che si chiama la tattica del piede la porta inizia a dire di sì al primo inganno e tradisco me stesso un pochino la volta dopo mi tradirò di più e poi sempre di più questo crea dei solchi enormi quindi questo periodo incredibile per chi è in una coppia e si è trovato in situazioni spiacevoli di questo tipo beh c'è stata sicuramente una sofferenza per chi invece è in un percorso di che deve ancora trovare l'anima gemella adesso credo che abbia veramente una bella spennellata con l'evidenziatore e possa capire subito dove andare dove non andare è vero e riguardo invece alla gelosia la possessività cosa ne pensi alessandro ma anche quelle sono forme nevrotiche nel senso che dico sono una persona serena lavoro con me mi prendo la responsabilità la mia vita e miei problemi me li smazzo io non vomito sugli altri le mie cose mi adoperò per costruire un mondo equilibrato ordinato il più possibile sereno con i suoi alti e bassi va bene però insomma una vita dove sto bene ho costruito un nido diciamo in questo nido mi piacerebbe condividere queste cose con qualcuno benissimo questa persona viene e condivide delle cose con me le trova belle bene non le trova belle bene va da un'altra parte non c'è problema il il fatto di voler tenere qualcuno è una forma di attaccamento nevrotico posso anche dire guarda sto bene con te mi piace stare con tempo e da un'altra parte soffrirà come un cane ma va bene così tu sei felice sarà felice così e io avrò la possibilità di ricominciare poi come scrivo anche nel libro ricominciare un amore che finisce e se noi abbiamo difficoltà lasciando andare qualcuno e perché abbiamo difficoltà a conoscere nostri mostri se io navigo bene dentro me stesso posso anche navigare nella mia depressione posso navigare nella mia solitudine posso navigare nella mia rabbia e non affondare e quindi non ho paura che una persona mi dica sto non sto attenzione questo è il caso di uno che tradisce ha paura di dire e di lasciarci questa è la primo caso però c'è anche quello colui che tradisce perché vuole mettere il piede in due scarpe dobbiamo essere in grado di capire di capire se che la persona con cui stiamo ci dà quello che chiediamo quindi più che gelosia la gelosia è voler trattenere qualcuno se uno vuole andare e lascialo andare va bene cioè noi possiamo tenere vicine le persone con amore io ti voglio bene per me sia importante ti tratto nella migliore dei modi perché se la persona di cui mi prendo cura questo è il modo in cui è giusto trattenere le persone se si può usare la parola trattenere avvicinare le persone con amore non sono in grado di avvicinare qualcuno con amore allora ego lascia andare se subentra la gelosia molto spesso la relazione già finita cioè sto cercando di tenere insieme una relazione da non c'è più è una persona guardano un'altra parte può succedere ti metto la mano sulla spalla ti dico qualcosa di gentile ti apro ancora di più il mio cuore riesce a girarti verso di me riesce a vedermi bene non ti interessa quello che ti offre il mercato benissimo me la metto via mi elaboro luto grazie arrivederci chiaramente se ci sono dei figli il discorso diventa un po più complesso ma eventualmente se ne puoi parlare però se guardiamo solamente la relazione tra uomo e donna più o meno così come dice la preghiera della gesta io sono io tu sei tu io non sono qua per soddisfare i tuoi bisogni e tu non sei qua per soddisfare i miei se ci incontreremo sarà bello se non ci incontreremo sarà bello lo stesso questo è più o meno quello che diceva risperse nelle relazioni di coppia che non significa diventare narcisisti e fregarsene degli altri significa che possiamo soffrire per gli altri possiamo amare gli altri possiamo amare qualcuno soffrire per qualcuno però rinunciamo al controllo questo dobbiamo fare rinunciare al controllo è bello stare insieme è bello aiutarsi è bello collaborare per tirare fuori il meglio reciprocamente ma alle volte questo non succede si entra nel dolore va bene stiamo nel dolore a questo serve la crescita personale spirituale saper stare nella sofferenza ma poi anche capire che l'altra persona non è una copia di se stessi l'altra persona non è una copia di noi stessi che ha le sue direzioni cioè fare la scelta migliore significa se tu trovi una persona se tu scegli una persona con cui c'è un bel incastro dal punto di vista spirituale animico mentale emotivo fisico o comunque è il più possibile su questi piani ecco l'incastro perfetto non c'è mai però il più possibile hai anche una buona possibilità che quella relazione duri più la scelta è fatta un po così perché mi sentivo solo perché mi è capitato perché mi sono innamorato di te perché queste storie qua e più insomma la durata sarà quello che è le case vanno la relazione come una casa va un attimo studiato e io volevo far vedere alessandro il tuo libro che è sulla nostra piattaforma qui in lion ricominciare da un amore che finisce per chi vuole dare un'occhiata per chi vuole acquistarlo basso in zion eccolo qui che bella copertina tra l'altro grazie grazie l'ha fatta una mia amica bella molto bella sai che mi dà l'assist concetta che dice gli uomini sono convinti di sposarsi con la loro mamma ma come mai negli ultimi anni tra l'altro ci sono quarantenni che non riescono così a a formare a lasciare il nido ecco diciamo la lasciare il nido materno ma credo che il tema sia quello dei figli di genitori separati cioè io umilmente perché non è che ci ha fatto una ricerca sociale però quello che vedo è più o meno una situazione di questo tipo una volta i figli giocavano stavano insieme avevano possibilità di essere spontanei molto di più che oggi la televisione i videogiochi sta hanno portato un conformismo di massa e hanno portato a distanza emotiva dentro le coppie il materialismo ha portato a distanza emotiva all'interno delle famiglie le madri per esempio si sono ritrovate molto sole e i figli cosa fanno ti ritrovi da una parte una famiglia dove c'è poco spazio respiro emotivo ritrovi una madre che magari è triste perché il padre lontano effettivamente è immerso nella 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 lotta per la vita materiale diritto magari questo figlio non aveva neanche avuto la possibilità di esprimersi di giocare di essere creativo perché è dentro la scatola della xbox la scatola di videogiochi la scatola della sua stanza a dove gioca la scatola della scuola solo scatole non ci sono più prati non ci sono più alberi non ci sono più fiumi non c'è più niente insomma si crea alla fine un legame dove la mamma è tutto per il bambino e il bambino è tutto per la mamma queste sono alcune dinamiche che si possono verificare il cordone umbilicale non si taglia più e comunque se questo cordone umbilicale non si taglia questo uomo cosa fa tornerà a casa o comunque cercherà qualcosa che gli ricordi mamma di solito però questo cordone umbilicale si sviluppa a partire dalla madre siamo nel dopo dal dal padre che lascia al figlio il compito di stare vicino la madre stai vicino con la mamma perché non ho tempo non voglia e la madre in questo caso e il padre si appoggiano a scaricano delle responsabilità sul figlio che figli non si possono prendere quindi il cordone umbilicale non dobbiamo vederlo come un discorso di comodo che un figlio a cioè io sono comodo voglio stare con la mamma perché sto comodo voglio una donna che sia come mia mamma perché sto comodo un uomo così è già castrato ma lo stesso può succedere per una donna attenzione parliamo di uomini donne castrati che non sono riusciti a tagliare condone umbilicale che soffrono per questo perché sono in una posizione regressiva e la posizione regressiva è sempre fonte di sofferenza e questa fonte regressiva nasce dai bisogni che genitori hanno trasferito sui figli i bisogni che genitori non sono riusciti a risolvere dentro di sé bisogna di affetto di vicinanza di sostegno di amore eccetera e che chiedono ai figli i figli a quel punto non si sganciano le figlie femmine i figli maschi rimangono chiusi in casa se non fisicamente emotivamente a livello di anima per cui tu ti ritrovi con un uomo o una donna che non riesce poi a costruire chiarissimo grazie alessandro alessandro mi farei salire ila che ha preparato delle domande il lavado posso sì eccoci qua perché ci sono delle domande per te bene pronti ok allora rifaccio eccoci partiamo allora lucia dice è vero che spesso ricerchiamo nel compagno le caratteristiche del genitore di sesso opposto e sì posso dire che ho osservato certamente una donna cerca nell'uomo il padre una donna cerca nell'uomo la madre è vero soprattutto la misura in cui quel legame è irrisolto e posso dire anche che una donna che una donna si relaziona all'uomo anche in base a quello che ha imparato nella relazione con sua madre e lo stesso l'uomo si relaziona con la donna non solo come se quella donna fosse la propria madre ma anche il padre quindi i genitori comunque ci entrano sempre in tutti e due casi ricordiamoci che il primo modello di amore la madre ok allora fair chiede e quelli che sono attratti sempre da chi ricorda fisicamente un po l'ex è dovuto alla tipologia estetica che ci piace veramente o è disfunzione emotiva ma credo che se una persona ha una fissazione fisica le cose possono essere diverse ma me ne vengono in mente due in questo momento la prima cerco non cerco in realtà un partner c'era il film di verdone magda che era fantastico e quindi alle volte può succedere rimango traumatizzato cerco la ex però possiamo dire che se siamo a questi livelli siamo così in posizioni basse che è meglio tagliare la corda lì non c'è spazio per relazione lì ci vuole una terapia bella e sana di qualche anno può essere che ci siano delle preferenze invece dal punto di vista dell'aspetto fisico spesso visto queste preferenze legate a una figura di attaccamento per esempio la nonna che era bionda aveva gli occhi verdi cercherò donne bionde con gli occhi verdi o viceversa l'amore e così via e allora cercherò quella figura lì ma anche qua questo è legato al fatto che non ho tagliato il cordone umbilicale e che quindi ci sono dei vuoti emotivi che continuano a riempire fantasticamente a livello invisibile nella mia anima rimanendo connesso con quella figura perché io non mi sono riempito d'amore quindi ho mantenuto quelle gambe non sono riuscito a riempirmi perché forse l'amore era poco in casa mantengo quelle gambe lì e continuo a cercarlo ossessivamente anche poi nelle persone dopo quello può succedere ok allora angela chiede buongiorno sono in lutto emotivo voglio ma non la cerco una persona come me sono narcisista o troppo ferita insomma elaboriamo lutto emotivo torniamo a sorridere poi ci rifacciamo questa domanda però qua è come gioco dell'oca si ritorna indietro anzi si riparte dal via quindi cercare una persona come te no è giusto che tu cerchi quello che pensi che ti renda felice l'importante è che quello che noi scriviamo su quel pezzo di carta nasca non solo non dalle nostre ferite non dalle nostre paure non dalle nostre angosce ma nasca da un attentico movimento di gioia di felicità di pienezza quando vuoi andare in ferie cosa fai non è che dici vado al caldo perché non voglio stare al freddo dirai vado in questo posto che c'è il mare ci sono le rovine ci sono i musei ci sono è così che si dovrebbe trovare un partner bella questa immagine veramente allora concetta fa un'affermazione dice io non credo non ci credo ancora io non ci credo ancora io penso io non ho ancora trovato l'anima gemella siamo simili ma non riesco a crederci lui mi dice che mi aspetta ma io non riesco a crederci non riesco a credere che che esista e che sia succedendo proprio a me help anche qua cerchiamo di stare nel qui ed ora respiriamo calmiamoci dove c'è ansia dove c'è paura non c'è amore ci dicono le tradizioni spirituali e crisi da murti per esempio che è stato uno dei miei autori più importanti ma estri più importanti e perciò ragioniamo passo dopo passo quando scali una montagna non è che guardo in cima alla vetta sai che se sulla strada giusta metti un piede davanti all'altro poi come si dice se sono rose fioriranno però passo dopo passo queste parole altisonanti io sono la persona giusta tu sei la persona giusta due un attimino sembrerebbe di sì viviamo la quotidianità poi si vede attenzione che non cadiamo nelle trappole comunicative nevrotiche io sono qua ti aspetto e allora tu ti metti già nel ruolo di chi deve raggiungere quell'altro parti già con la sensazione di essere insufficiente vai in una forma di autosvalutazione ti prende l'ansia oddio sto perdendo l'occasione la mia vita usciamo dal dramma un attimino un bel respiro vita giorno per giorno apprezziamo le piccole cose lavoriamo su noi stessi ok concetto ha scritto che ha trovato e che ha trovato l'anima gemella e ok allora posto vivere la vita dei bei dei c'è certe volte però molte persone sono frenate dalla paura di soffrire probabilmente hanno avuto allora bisogna elaborare il trauma e poi perché se no continuiamo a vivere nel passato e l'altra quindi ci sono tutte le tecniche psicoterapeutiche l'elaborazione del trauma e poi dall'altra parte non posso stare nel futuro devo vivere il presente cosa faccio progetto una bella giornata al mare oggi organizza una bella festa domani attenzione non riempiamo la nostra mente di idee di concetti roboanti suggestivi che possono creare ansia la persona perfetta la felicità più completa la felicità una cosa tranquilla e come l'aria ti fa vivere ma neanche te ne accorgi è una cosa così la felicità se invece iniziamo a pensare a cose stratosferiche finiamo dentro circoli viziose incredibili e spiego maribel chiede disastro totale quando sei convinto che è la persona giusta poi con l'arrivo di un figlio sembra un'altra persona come possiamo capire che poi ci sono diversi momenti e trovi questi cambiamenti ecco questo è un altro passaggio come dicevo prima sei dentro una coppia e adesso devi far aggiustare le cose tornando sul tema l'anima gemella queste cose dovremmo vederle prima guardando le famiglie da cui provengono le persone con cui stiamo perché è molto meccanico molto banale molto semplice molto poerile noi ripetiamo quello che c'è stato nelle nostre famiglie di origine se c'erano disastri quei disastri torneranno a meno che uno consapevolmente non ci abbia messo mano le persone generalmente quando hanno un figlio semplicemente riportano le lancette indietro nel tempo quando erano loro figli in quella famiglia punto quindi se noi scegliamo partner che hanno subito traumi tu sai che quel trauma te lo mette lì sotto il naso appena arriva un figlio semplice semplice a meno perché la persona non ci abbia lavorato almeno che non ci abbia lavorato e soprattutto continua a lavorarci perché quelli che mi dicono e ma io ho superato il trauma fatto 10 sedute di terapia mi vengono i capelli dritti cioè questa è un'altra forma di narcisismo moderna e ma io ho fatto quel corso la ho fatto ritiro di meditazione dieci giorni ho fatto 5 sedute di terapia sono già posto e l'altro che deve fare e vi è male quando siete queste robe ok poi ci sono due affermazioni una è questa di eli che dice certo che con uno stipendio normale di 1400 euro non è facile lasciare casa quando un affitto sono almeno 600 euro purtroppo il sistema non aiuta è vero è vero allora anche per questo credo che oggi ci siano tantissimi strumenti allora intanto uno penso molto alla creatività adesso non so il caso specifico bisogna lavorare situazione per situazione però faccio un esempio magari stupido però giusto per dare l'idea dell'argomento faccio fatica ad andare via di casa benissimo posso pensare di andare a vivere con degli studenti c'è qualcuno che vuole condividere la casa con me da qualche altra parte c'è un posto dove le abitazioni costano meno e possono andare via ci sono dei lavori dove mi offrono un alloggio quindi affrontare in maniera creativa la situazione l'altra cosa è usare dei sistemi che ci permettono di aumentare le entrate io personalmente so che l'argomento alcuni piace alcuni sono contro sono anche di autori che apprezzo e seguo che dicono che pensano contrariamente a me e giudicano pesantemente questo argomento ma io credo molto che queste piattaforme che permettono di utilizzare sistemi di training automatico non automatico di training sulle criptovalute di tre sono sistemi per incrementare le entrate va fatto con la testa perché sennò non ci rimette anche la casa e tutti i risparmi quindi va fatto con la testa va fatto con lo studio però se c'è un vantaggio che l'informatica ci dà se c'è qualcosa che l'elettronica ci dà è la formazione formazione gratuita e possibilità di generare entrate lavorando da casa per esempio e anche ci sono tantissime altre cose che uno può fare anche a costo zero qual è l'abilità che puoi sfruttare per farti pagare da qualcuno sei capace di trovare adesso non so faccio un'altra cosa rimando al libro di robert allen molteplici fonti di reddito un libro bellissimo sei capace di trovare case hai un sacco di contatti e un sacco di agganci bene trovi un investitore infatti fai un'alleanza per iniziare a lavorare nel campo immobiliare sei capace di fare ristrutturazioni benissimo trova qualcuno che è interessato a fare questo lavoro con te e mette mettere insieme qualcosina quindi non fermiamoci al denaro il denaro di solito indica anche un limite nelle capacità creative di pensiero ok attenzione grazie grazie poi c'è l'ultima di maria luisa che dice allora l'anima gemella è quella che vorresti essere tu se fossi del sesso opposto se così non è non funzionerà mai perché si cerca sempre il modello che noi vorremmo essere allora anche qua i confidi sono sottili l'importante prendersi la responsabilità del proprio percorso di vita essere liberi significa dover scegliere io mi prendo la responsabilità di decidere che questa strada importante per me e voglio percorrerla con qualcuno solo se quel qualcuno può condividere questa strada come se non voglio nessuno è un'affermazione molto forte questa e ed è chiaro che escluderà tutta un'altra serie di persone qualcuno mi dirà ma si diventa che ne so nazisti si diventa rigidi si diventa giudicanti questa direzione ma nel momento in cui tu decidi che qualcosa è importante per te basta hai tagliato fuori tre quarti di pianeta 99 per cento del mondo decidere è l'atto in cui noi ci diamo la nascita c'era quel bellissimo film il pianista sull'oceano la legenda del pianista sull'oceano che è molto pirandelliano come argomento dove il protagonista non vuole uscire dalla nave perché uscendo dalla nave lui dice in un discorso finale cosa dovrei fare scendere da questa nave diventare come tutti gli altri scegliere una donna fare una famiglia a trovarmi un lavoro e non essere più qui libero di viaggiare dove viaggia la nave è libero di suonare quello che voglio suonare ogni giorno conoscere persone nuove ogni giorno eccetera eccetera quindi nel momento in cui noi nasciamo e nel momento in cui noi continuiamo a dare la nostra nascita giorno dopo giorno noi dobbiamo decidere di dire di no a qualcosa ma questo no non ci pesa perché abbiamo un sì più grande quindi non si tratta di trovare una persona come noi ma si tratta di trovare una persona che può andare nella stessa direzione nostra se io decido di andare in montagna non voglio andare con tanti mucloni miei che camminiamo tutti verso questa montagna che voglio trovare persone diverse da me ma che comunque vanno verso quella montagna e quello che voglio trovare è vero è vero bene grazie alessandro alessandro questa diretta è stata interessantissima l'argomento ha toccato tanti cuori sono stati tantissimi commenti ci vediamo giovedì prossimo e di cosa si parlerà giovedì prossimo per potremmo parlare per esempio di come aggiustare una relazione che non funziona aspetta giovedì prossimo forse c'è quella della stanza degli specchi si scusa giovedì prossimo la prossima giovedì possiamo pensare a quella ad aggiustare le relazioni ok perfetto segnato alessandro grazie di cuore ila grazie grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e ci vediamo con te giovedì prossimo un abbraccio a tutti ciao 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 buonima My mind away I feel too full of myself Help me to find my way I know I'm better off than I'm not foolish I'm not a weak I just know This is the way to what I see Listen to my thoughts Listen to my doubts Listen to my questions And tell me to let go Listen to my fears Listen to my wishes And show me the life That I'm struggling for I can be a leaf Moving with the wind I can be a steady rock Staying where it is I can be anything Always try to fulfill my dreams Looking right, left, and anywhere You can be a friend Just to have my Arkansas I can be an Arkansas I can be a feather Sit in theops Listen to my skeletal Staying in the house Grazie a tutti